Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi parliamo di capelli più in particolare e voglio condividere con voi quali sono i prodotti che mi aiutano di più con il crespo. Quindi oggi vi faccio vedere la mia routine per capelli anticrespo o la mia routine anticrespo per capelli. Nel corso degli anni ho provato tantissimi prodotti, penso di essere arrivata ad avere una buona routine, almeno per me. Volevo quindi condividere con voi questi prodotti così se stavate cercando dei sostituti a quelli che utilizzate adesso potete dargli un'occhiata. Volevo partire da shampoo e balsamo che utilizzo, vi faccio vedere quelli che utilizzo quasi sempre e anche qualche altra alternativa che mi piace che però devo dire è seconda a quelli che vi faccio vedere adesso. Cerco di mettervi anche le immagini nel frattempo che chiacchiero ma calcolate che le ho registrate da sola ieri notte tipo a mezzanotte mentre lavavo i capelli e purtroppo non sono proprio perfette perché appunto non riuscivo ad inquadrarmi benissimo, ero a testa in giù. Io i capelli cerco di lavarli nel lavandino perché riesco a lavorare meglio i prodotti rispetto a che se sono sotto la doccia. La mia linea preferita come effetto anticrespo e nutriente per capelli è la linea di She Moisture, questa qui che è Jamaican Black Castro Oil ed è la linea Strength and Restore, vabbè shampoo, balsamo eccetera eccetera. Diciamo che utilizzo questo shampoo da veramente un sacco di tempo, mi lava benissimo i capelli, non è di quelli che fa tantissima schiuma però un po' la fa e mi piace moltissimo perché lascia la cute super pulita senza renderla troppo asciutta. Faccio due insaponate di questo cioè insapono, sciacquo, insapono e risciacquo e un consiglio che voglio darvi è di sciacquare benissimo lo shampoo prima di procedere all'applicazione di maschere o balsami e dite voi ok è abbastanza scontata come cosa. In realtà non lo so, delle volte soprattutto quando andavo di fretta mi sono trovata a dire ok sciacquo al volo l'ultima passata di shampoo poi applico subito la maschera tanto risciacquo tutto poi alla fine. Invece applicando la maschera su qualche residuo di shampoo diciamo che non è così tanto efficace come se l'applichiamo su un capello estremamente pulito, proprio di prodotto intendo. Quando ho un po' di tempo in più mentre lavo i capelli faccio anche la maschera numero 8 di Olaplex. Ho provato sia la numero 8 che la numero 3 per quanto mi riguarda sui miei capelli la numero 8 ha un effetto estremo anticrespo e anche qui super nutriente. Infatti quando la faccio ho i capelli proprio luminosissimi, morbidissimi, sento veramente la differenza. Solo che bisogna avere appunto un po' di tempo in più perché comunque va messa e lasciata in posa. Diciamo che ci consigliano di metterla sui capelli asciutti, anzi diciamo leggermente umidi prima dello shampoo. Ma in realtà mi sono un po' informata e ho scoperto che soprattutto se si utilizzano tanti prodotti poi per lo styling eccetera eccetera applicare la maschera sui capelli puliti quindi tra shampoo e balsamo lo rende ancora più efficace. Quindi io che faccio? Dopo aver risciacquato i capelli dallo shampoo vado a tamponare con l'asciugamano con le microfibre in modo da rimuovere quanta più acqua possibile e poi applico la maschera numero 8. L'applico su tutte le lunghezze e le punte e mi aiuto con una spazzola a distribuirla per bene. Se ho tempo la lascio in posa anche 40 minuti un'ora dipende ovviamente quanto tempo ho a disposizione. Magari quando estate fa un pochino più caldo riesco veramente a lasciarla per tanto tempo. Ovviamente se inverno fa freddo non mi va di stare proprio tantissimo tempo con la testa bagnata. Però diciamo che lascio lei in posa la vado a risciacquare e poi allo stesso modo quindi sui capelli puliti cerco di strizzarli un pochino di tamponarli se mi è possibile applico un balsamo o una maschera sempre di questa linea qui. Mi piacciono entrambi sia il conditioner che la questa si chiama treatment mask. La differenza è che il conditioner è un pochino più liquidino come consistenza anche se non tantissimo. Anche lui fa un ottimo lavoro però se avete bisogno proprio di un super effetto anticrespo e nutriente vi consiglio di provare questa qui questa maschera. È al tatto molto corposa e densa ed è veramente super super nutriente. Anche qui quando la utilizzo vedo i capelli morbidi luminosi a me piace veramente tantissimo. Un consiglio che mi sento di darvi anche se cambiate shampoo e balsamo o in generale se provate nuovi prodotti per capelli dategli un pochino di tempo per farli lavorare. È possibile soprattutto e mi è capitato spesso che la prima volta che cambiate prodotti i capelli impazziscano. Non so se succede solo a me però ecco in passato mi è successo. Quindi se cambiate prodotti utilizzatele almeno per due tre volte prima di capire se sono efficaci per voi o se non vi stanno piacendo. E comunque in generale diciamo che per avere dei capelli sani se ce li avete estremamente danneggiati ci vuole un po' di tempo quindi abbiate pazienza. Lo so è una rottura di scatole però non stiamo parlando di una maschera esfoliante per il viso si vede la differenza così da un momento all'altro. Stiamo parlando di capelli che sono lunghi e portano anni e anni di storia e di ricordi e di trattamenti e probabilmente di decolorazioni e tinte dobbiamo avere un po' di pazienza. Voglio darvi anche un paio di alternative a questi prodotti anche se loro sono proprio i miei preferiti. Cioè se dovessi scegliere dei prodotti da utilizzare sempre e di utilizzare solo e soltanto quei prodotti sceglierei questi che vi ho fatto vedere adesso. Mi sono trovata molto molto bene con i prodotti di Christophe Robin e scusate sono un po' sporchi questi qui vi ho fatto vedere le scatole pulite quelle che ho un po' di scorta ma in realtà quelle altre quelle sporche ce le ho nella doccia. Queste qui invece non ce le ho nuove quindi ve le beccate purtroppo utilizzate e amate. Questa è la linea regenerating possiamo chiamarla è quella con il tappo arancione e ho sia lo shampoo che la maschera rigenerante. A parte che il profumo della maschera è una cosa eccezionale a me piace da morire mi piace veramente tantissimo ma tralasciando la profumazione anche loro sono estremamente efficaci. Come prezzo qui siamo a un prezzo abbastanza elevato questi sono prodotti che costicchiano però se volete provarli per quanto riguarda il funzionamento l'efficacia ecco su di me si sono comportati veramente veramente bene. Posso prendermi anche un secondo per dirvi che non rifarò mai più queste bangs come si chiamano in inglese in italiano non ho la minima idea perché non è una frangetta ma non è un ciuffo non lo so non riesco veramente a trovarmi ci bene. Il taglio che mi hanno fatto questa volta un pochino scalato è il taglio migliore che mi abbiano fatto in tutta la mia vita ma posso dirvi quanto io odio queste frangettine non stanno mai al loro posto devo sempre andarci ad intervenire e ho guardato delle foto di quando ce l'avevo lunghi mi piacevano molto di più quindi se dovessi in qualche modo richiedervi ma che dite me li taglio no ragazzi per favore convincetemi di non farlo. Un'altra alternativa che voglio darvi è questo conditioner di Umberto Giannini una maschera a me sconosciuta fino a poco tempo fa di questo ho provato sia lo shampoo che il balsamo però devo dire che lo shampoo inizialmente mi era piaciuto ma andando ad utilizzarlo sempre ho notato che non puliva abbastanza bene cioè all'inizio mi sembrava di avere la cute pulita mano a mano che passavano le settimane che continuavo ad utilizzarlo perché ho cercato proprio per testarlo nel miglior modo possibile di utilizzare solo quello per tutte le settimane successive vabbè avete capito scusate ragazzi è sera abbastanza tardi è stata una giornata lunghissima quindi perdonatemi se ogni tanto mi perdo in qualche discorso per quanto mi riguarda lo shampoo non lo continuerà a riutilizzare l'ho regalato e non rientrerà nella mia doccia il balsamo invece mi è piaciuto veramente tanto ed è quasi terminato ne è rimasto veramente pochissimo anche lui estremamente nutriente e anticrespo questo qui è alla banana e all'olio di cocco anche questo l'odore vabbè è super bananoso sembra un po una caramella di quelle dolcissime però devo dire che anche lui mi è piaciuto veramente veramente tanto passiamo allo styling e una cosa che volevo dirvi è shampoo e balsamo olaplex sono eccezionali per quanto mi riguarda sono dei prodotti che lavorano sui capelli danneggiati ma se voglio l'effetto anticrespo ho notato che questi che vi ho fatto vedere su di me si comportano molto molto meglio cioè hanno un effetto anticrespo più potente rispetto a quelli di olaplex anche qui vediamo tanti prodotti di olaplex perché secondo me a livello di styling sono veramente imbattibili specialmente se parliamo dell'effetto anticrespo io divido i capelli in due sezioni e inizio ad applicare olaplex numero 9 che è un prodotto antiossidante serve per ammorbidire i capelli ed è anche un termoprotettore anche qui lo applico su tutte le lunghezze e sulle punte diciamo che io utilizzo abbastanza prodotto perché i miei capelli sono veramente tantissimi e soprattutto sono molto porosi assorbono parecchio prodotto qualsiasi cosa ci vado a mettere sopra se lo mangiano faccio poi un mix di olaplex numero 6 e numero 7 specialmente il numero 6 è quello che ha l'effetto anticrespo più potente diciamo che in generale un po tutti fanno questo cocktail di prodotti termoprotettori anticrespo e nutrienti se dovessi però consigliarvi un prodotto anticrespo per lo styling sicuramente tra i tre sceglierei il numero 6 mi raccomando il numero 6 non è un termoprotettore il numero 9 e il numero 7 invece proteggono anche dal calore io vado a mischiare il numero 6 e il numero 7 insieme faccio questa sorta di pappetta un po oleosa che vedete in sovraimpressione in questo momento e la vado a distribuire sui capelli procedo poi con l'asciugatura e vado con il dyson ho notato che su di me il dyson è veramente fantastico e non sono qui a dire solo il dyson ci fa avere una piega fantastica perché non è assolutamente così però devo dire che mi ha facilitato parecchio la vita sia con il dyson che con i simi e il dyson che con phon e spazzola si ottiene un bellissimo risultato bisogna ovviamente come tutto saperlo usare nel modo corretto e soprattutto capire come gestire al meglio i propri capelli io mi trovo benissimo con la spazzola quella rotonda vi farò prossimamente una recensione dedicata al dyson perché ormai sono anni che lo utilizzo e ovviamente non sarà una recensione sponsorizzata ci tenevo però a dedicargli un video perché adesso non mi va di parlare soltanto di dyson dopo quello vado ad utilizzare la piastra e io mi trovo benissimo con la ghd max che è quella un pochino più larga sempre per il fatto che ho tantissimi capelli e a me piace una piega così cioè liscia un po boccolata magari cioè con le punte morbide alla fine o al massimo faccio dei boccoli molto molto morbidi e parecchio larghi per questo mi trovo benissimo con la piastra quella più grande una volta terminata la piega utilizzo l'olio di argan e io utilizzo questo qui l'ho preso su amazon adesso ho visto che hanno cambiato la bottiglia infatti se dal link lo vedete diverso non vi preoccupate è lo stesso è cambiato solo il packaging ce n'è ancora parecchio perché vabbè ovviamente diciamo che ci metto un po' a consumarlo ma con l'olio di argan si possono fare anche le maschere pre lavaggio infatti è una cosa che purtroppo non sempre ho il tempo di fare però se vi capita è ottimo anche come effetto anticrespo e nutriente quando lo acquistate vi arriva in questa bottiglietta io lo vado a travasare nella bottiglietta di olio di argan di de ordinari perché ovviamente ha il contagocce ed è molto più comodo da utilizzare l'olio di argan è particolarmente amato dai miei capelli non so perché quindi lo utilizzo sia alla fine della piega che tra i due lavaggi magari la sera prima di andare a dormire o se ritocco un po' la piega metto qualche goccina giusto sulle lunghezze mi sono resa conto che utilizzando l'olio di argan i capelli sono più morbidi e luminosi quindi ovviamente continuerò ad utilizzarlo l'ultimo prodotto che voglio consigliarvi ci serve per mantenere la piega tra un lavaggio e l'altro e non è che ha un vero e proprio effetto anticrespo però diciamo che ci aiuta a mantenere la piega senza che si sconci e senza che sì vabbè alla fine i capelli diventino crespi la sto utilizzando da circa una settimana e ne sono ossessionata perché calcolate che io ieri sera ho lavato i capelli solitamente poi vado a dormire mi sveglio la mattina con i capelli che fanno schifo e soprattutto in qualche modo devo per forza riprenderli invece ragazzi ho scoperto questa una cuffia di seta che si mette esattamente come una cuffia ve l'andate a mettere così sulla testa girate i capelli all'interno attenti perché in base a come li girate poi vi viene la piega la mattina quando vi svegliate i capelli sono perfetti non si vanno a rovinare e soprattutto evitate quell'effetto crespo causato dallo sfregamento dei capelli sul cuscino lei veramente una super scoperta quindi ragazzi io oggi ho chiacchierato tantissimo veramente veramente tanto tutti i prodotti che vi ho fatto vedere nel video sono cruelty free quindi non testati sugli animali cioè io ci tengo tantissimo e so che anche tanti di voi tengono a questo argomento mi sono dimenticata di dirlo all'inizio ma è così fatemi sapere in un commento quali sono i vostri prodotti anticrespo per i capelli perché sono sempre curiosa di trovare nuovi prodotti e fatemi sapere se il video vi è piaciuto con un commentino o con un cuoricino un pollice all'insù io vi ringrazio tantissimo per avermi guardato vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimissimissimo nel prossimo video ciao ciao